In conclusione voglio esprimere e ribadire il mio pieno apprezzamento a tutti gli attori che hanno portato ad avere questi risultati, che hanno preso parte a questa collaborazione virtuosa interistituzionale che oggi ci dà uno studio che si inserisce a pieno in quel modello di sanità a cui tutti stiamo lavorando, una sanità sempre più vicina ai malati che consente di affrontare la malattia utilizzando quanto di meglio il sistema e l'innovazione oggi può offrire.